Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui a Vostro Eppegame Oggi andiamo a parlare su tutte le tre partite che sono state giocate ieri Anticipi di Serie A, 19esima giornata Vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciate un like, a tutte le campanee per se aggiungere i miei contenuti Tutto completamente gratuito, non dovete spendere nessuna somma di denaro Ma non ci perdiamo in chiacchia, parliamo di queste tre partite Verona, veramente pazzesco Che vince e convince soprattutto l'allenatore Tre punti molto importanti Vi ricordo che era uno scontro salvezza Uno scontro dove il Verona e il Lecce dovevano trovare assolutamente dei tre punti importanti Per salvarsi e continuare la salvezza in questo campionato Per l'essenza di Serie A bisogna soprattutto guadagnarsela quella salvezza Bisogna veramente mettere in campo tutte le forze, le qualità che si hanno a disposizione Quindi per quanto riguarda Verona e Lecce abbiamo visto un Verona veramente sveglio Un Verona che trova due gole molto importanti con De Paoli e Lasovic Gole veramente spettacolari Lecce confusionario Lecce che non ho visto, quel Lecce che ho visto contro il Milan Lecce che parte veramente con un gol subito Parte veramente con tante azioni concretizzate male Tanta confusione in campo per quanto riguarda Lecce Ma invece da parte Verona ho visto un passo avanti Ho visto un Verona che ha trovato queste due azioni molto importanti che hanno portato la gol Ho visto un Verona con un portiere che ha salvato per due volte la porta Un portiere che si dà veramente tanto merito per aver salvato tutta la porta a Verona Un Verona che con questa partita può veramente sperare in una salvezza Si porta a 12 punti E la terza ultima Ora con questi 12 punti Si pensa in grande Si pensa soprattutto alla salvezza E a restare soprattutto in questa Serie A Serie A che per il Verona è veramente importantissima E anche per tutto lo staff e i giocatori Che stanno mettendo tutte le forze che hanno a disposizione Invece per quanto riguarda Serenitana a Napoli Ho visto un Napoli sempre che vince Sempre che convince Chiude le partite Si porta tutto al zero Serenitana che trova il palo con Piontek Serenitana che ci prova Fino in fondo Ma alla fine Si deve arrendere a questo Napoli Che si porta a quota 50 punti Si porta a più 12 Per quanto riguarda la seconda posizione Che è il Milan Quindi una distanza veramente grande Per quanto riguarda il Napoli Abbiamo visto anche a Juventus che sono stati levati 15 punti In penalizzazione Quindi a cui se ne va a quota 22 Esce dalla lotta Scudetto Può pensare a una chance Su tutto quanto riguarda la qualificazione in Champions League Ma sarà veramente molto molto difficile Serenitana che ha giocato la sua partita Tanto merito a questa Serenitana Ma che trova il ritorno di Nicola In panchina Una Serenitana che si arrende a questo Napoli Che è veramente forte Ha tanta qualità Tanta tecnica E ora deve continuare a lottare per questo Scudetto Che ha veramente una grande distanza Distanza molto importante E può cominciare a sognare A crederci a questo Scudetto Per quanto riguarda la Champions League Il Napoli è andato a giocare con il Francofort Quindi ha per ora due competizioni In questa stagione da giocare Una è uscita della Coppa Italia È uscita contro la Cremonese Ai rigori Brutta prestazione a quanto riguarda il Napoli Ma spero che questa vittoria in campionato Continui la sua scia positiva Poi andiamo a parlare della Fiorentina Una Fiorentina che abbiamo visto giocare questa partita In un modo strano Perché ho visto la giocare della Fiorentina Nelle precedenti partite E non mi è sembrata una Fiorentina del genere L'italiano deve cambiare assolutamente qualcosa Invece complimenti al Torino Che Iulic sta continuando veramente Una scia molto importante In quanto riguarda il Torino Si è qualificata ai quarti finali di Coppa Italia Ha vinto contro la Fiorentina Si porta a quota 26 E si sta avvicinando soprattutto in un posto in Europa Che sia Conference League Che sia Europa League Poi vedremo Quale competizione sarà Ma spero che questo Torino si qualifichi In qualche competizione europea Perché merita Giocando questo campionato del genere Merita soprattutto di qualificarsi E di portarsi soprattutto un altro obiettivo a casa Quella qualificazione Ma in questo campionato Vedo un Torino che sta mettendo a disposizione le proprie qualità E le proprie forze E sta portando risultati positivi a casa Fatemi sapere nei suoi commenti cosa ne pensate Di queste tre partite Ho visto un Napoli veramente sempre convinto Dell'obiettivo che ha la disposizione di raggiungere Ho visto un Torino che porta a casa dei punti molto importanti E ho visto un Verona che non ci sta Alla retrocessione E che sta lottando fino in fondo Per guadagnarsi una salvezza E per restare soprattutto in Serie A Quindi la parte per quanto riguarda salvezza Sarà veramente un discorso Che verrà combattuto fino alla fine Fino all'ultima partita Quindi fino alla 38esima giornata Verrà combattuto per quanto riguarda tutte queste squadre Parliamo di Empoli, Verona, Sardoria, Cremonese Parliamo anche di Sassuolo Che sta passando un periodo brutto Parliamo di tante squadre Che ancora sono in lotta salvezza E quindi non è deciso Soprattutto Non sono state decise Soprattutto il destino di queste squadre Quindi ci sarà spazio fino all'ultima giornata Per lottare e per combattere fino in fondo Per quanto riguarda questa salvezza Fate sapere attraverso i commenti Tifosi del Napoli Tifosi del Torino Del Verona Di queste squadre che hanno giocato Questi anticipi di questa 19esima giornata Cosa ne pensate della vostra squadra? A mio parere In sintesi ho visto un Napoli Che la sconfitta che ha ricevuto in Coppa Italia Non ha incalcato Soprattutto Lo stato d'animo dei giocatori Ho visto un Torino Veramente in forma Ho visto un Verona Veramente in forma Che vuole lottare fino in fondo Quindi ho visto Tre punti molto importanti In quanto riguarda questo campionato Ho visto tre squadre In forma Quindi Fate sapere attraverso i commenti Cosa ne pensate Ci vediamo al prossimo video Per altre analisi Altri post partita Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti